Buongiorno! Buongiorno! Bello questo eh! Buongiorno! 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 Tocca al davanti! Eh? Tocca col davanti! E rasi impec vence Per non Historia Per non Per non Strategizzonti Iniziata Per non Ah Non va, non va, non va Ah ma da via che fuori Ah sono impiantati tutti lì sono impiantati sulla furba sono impiantati sono impiantati